Appartengono ad una donna di una cinquantina d'anni i brandelli recuperati ieri sera sulla tratta ferroviaria adriatica tra le stazioni di Pineto e Roseto in zona Santa Petronilla nei pressi del ponte sul fiume Vomano. Secondo la Polfer che ha ricostruito l'accaduto ma che non riesce ancora a dare un'identità alla donna, l'ipotesi più accreditata sarebbe quella del suicidio. Nessuno da ieri ha presentato denuncia di scomparsa per cui resta difficile stabilire chi possa essere la vittima di quell'investimento sulla strada ferrata proprio mentre transitava il treno della Sangritana 23948 che percorreva la linea San Vito-Pescara-Giulianova nel tardo pomeriggio di ieri poco dopo le 18. Il transito ferroviario è rimasto bloccato per circa un'ora, prima su di un binario solo e poi in ambedue le direzioni. La donna, secondo la ricostruzione della Polizia Ferroviaria, sarebbe passata per un cancelletto che dalla Statale 16 accede alla ferrovia. Qualcuno ieri sera, poco prima della tragedia, ha visto una donna da quelle parti. A poca distanza dal punto dell'impatto è stata trovata una piccola borsa termica di colore azzurro e rosso contenente un libro non ancora spaginato di Gino Paoli, un giubbino da donna ed un telo da mare in microfibra. La Polfer lancia un appello a familiari e testimoni per cercare di dare un'identità alla poveretta. Chiunque avesse notizie o segnalazioni può rivolgersi al posto di Polizia Ferroviaria di Giulianova al numero 085 831 98.